Settima e conclusiva, dal Savio di Cesena si conclude questa serata gentleman con una prova per tre anni a reclamare per 8.000 euro, sono in dieci al via dopo il forfait di Casar Gorob, favorita Cluni dei Greppi, uno Cassandra LG, due Chocolat, sì, tre Calliope, quattro Colinas, cinque Cluni dei Greppi, sei Karat, seconda fila sette Caipirignafi, otto Cazzaniga Light, nove Crisali de Moon, dieci Colorado Spring. Autostart che raccoglie dietro le proprie ali concorrenti, entra indirittura e va per lasciarli per l'ultima volta in questa serata. Partenza con la velocità da parte di Colinas e di Cluni dei Greppi che insiste all'esterno e passa a condurre già prima della curva, in vantaggio Cluni dei Greppi nei confronti di Cassandra LG in seconda posizione alla corda allo scoperto Colinas, poi lungo i birilli è partito molto bene Karat che è in terza posizione a precedere in seconda pareglia esterna Crisali de Moon, 15-1 per i primi 200 metri di corsa da parte di Nicola del Rosso e di Cluni dei Greppi che guidano il gruppo. Dopo 400 passati in 37 mentre la mossa esterna è quella di Colorado Spring che va a portarsi a diretto contatto di Cluni dei Greppi. Massimo De Luca con l'estremo outsider del campo cerca di mettere pressione a Cluni dei Greppi che guida dopo 600 in 46 e mezzo. All'esterno Colorado Spring Karat sposta dei birilli e va a fare la seconda pareglia esterna lasciando così alla corda Cassandra LG mentre muove in terza ruota con decisione Caipirigna Fi che cerca di aggirare il gruppo. 1-1 e 4 per il mezzo miglio iniziale in vantaggio c'è sempre Cluni dei Greppi con al largo Colorado Spring in mezzo alla pista Caipirigna Fi che progredisce al chilometro passato in 1.17 e mezzo si mette in terza ruota anche Crisali de Moon dalle retrovie gruppo molto molto ristretto tutti quanti in una quindicina di metri con Cluni dei Greppi che continua all'avanguardia Caipirigna Fiches Cavalca Colorado Spring si porta allo scoperto Cassandra LG sempre l'ispettatrice in attesa di open stretch Crisali de Moon che passa Carat che passa in quarta posizione cerca di venire in terza ruota precedendo Crisali de Moon a metà dell'ultima curva Cluni dei Greppi è in vantaggio Carat che cerca di arrivare aspetto all'open stretch Cassandra LG la rete d'arrivo con Cluni dei Greppi in vantaggio Cassandra che prova ad andare a largo in anticipo su Carat Cluni dei Greppi in vantaggio sbaglia Cassandra LG e Cluni dei Greppi allora vince facile nei confronti di Carat mentre per il terzo posto alla fine il 3 di Calliope sbuca dai birilli e coglie la terza moneta 1.16 e 9 2.3 il totale successo per Cluni dei Greppi Nicola Del Rosso che ovviamente anche proprietario con il training di Roberto Biagini della figlia di Exploacaf e il successo di Cluni dei Greppi Nicola Del Rosso che porta a casa il successo in chiusura dal Savio successo netto per Cluni dei Greppi nei confronti di Carat e di Calliope Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!